Allora, un buongiorno agli amici della rete e quelli che seguono la pagina di Tg Procida, buongiorno all'Avvocato Lubrano e buona festa di ogni santi a tutti. Questa mattina in redazione a trovarci, come potete vedere, con noi il coordinatore del circolo locale del PD, Raimundo Scotto di Covella, a cui diamo il benvenuto e ringraziandolo per aver accettato il nostro invito all'interno della nostra rubrica tra ente apparato e ente comunità. Allora, Raimundo, subito una domanda breve per cominciare un po' a rompere il ghiaccio. Era proprio circa un anno fa che, se ricordo bene, era il 18 novembre, venivi eletto coordinatore del PD. Da allora la tua presenza sul territorio è stata molto più costante, non è che prima non lo fosse, però da coordinatore, da segretario, diciamo così, da quello che un po' gestisce tutte le fila del partito locale, si è stato molto più incisivo. Abbiamo avuto modo di raccontare anche diverse volte la tua azione incisiva di politica sul territorio. Quest'anno come è andato, il circolo come sta, la vita all'interno del circolo, insomma questo primo anno di esperienza al timone del circolo. Buongiorno a tutti, grazie al direttore Pugliese per l'invito, grazie all'avvocato Lumbrano. Sì, esero il 18 novembre, quando vengo nominato segretario del locale circolo del PD. Questo primo anno non è stato facile per il partito, abbiamo avuto un'elezione che è stato un momento piuttosto difficile, che ha vissuto il partito, a livello nazionale, ma anche poi a livello, diciamo, che poi si è dinamata anche a livello locale per le note vicende che sappiamo. Devo ringraziare, vabbè, chi mi ha preceduto, quindi, di Tittaro Lumbrano, che è stata la coordinatrice del circolo, fino a novembre 2017. In quest'anno abbiamo cercato di coinvolgere anche diversi deputati, abbiamo avuto sull'isola delle volte Gennaro Migliore, è venuto Giosi Ferrandino, il donatevole Ferrandino, che è eurodeputato, e quindi abbiamo cercato di collegare il partito comunque sempre di più a quelli che sono i nostri rappresentanti sia a livello, diciamo, napoletano, che a livello poi, a livello centrale, più locale e nazionale, e poi anche con un collegamento con l'Unione Europea, quindi con Giosi Ferrandino. Certo, si può fare sempre meglio, naturalmente, si può fare un'azione più incisiva sul territorio, si può essere più presenti, io ci tengo molto alla presenza in piazza, alla presenza sul territorio, ed è qualcosa che dobbiamo iniziare a fare sempre più spesso e ci proveremo. Ci promettiamo di farlo a più presto. Allora, Avvocato, telecamera per tutto per te, Le Mundo sta qua, che cosa vogliamo dirci, cosa vogliamo chiederci, allo Stato del partito, anche perché tu ne sei parte integrante di questo direttivo, di questo partito, è forse l'unica vera forza politica oggi attualmente sul territorio che ha una sua struttura, che a me non me ne so vengono altre, tranne il commissario Scala di Forza Italia, altri partiti, non lo so, non esistono più, hanno più una loro base. Allora, buongiorno anzitutto, io prendo un po' spunto chiaramente dall'introduzione che avete fatto voi due, senza, diciamo, come dire, troppi fronzoli, è stato particolarmente già esaustivo il nostro Raimondo, il nostro coordinatore, io vorrei, anche perché interagiamo spesso, quindi più che altro è un confronto ulteriore pubblico oggi questo nostro, vorrei che esplicitasse ancora meglio il significato del ripartire dai territori, che è un po' il caposaldo, diciamo così, del partito democratico che intende, come dire, ricostruire la sua azione in maniera capillare, coinvolgendo un'intera stratificazione sociale e quindi secondo i criteri fondamentali che sono quelli della trasparenza e della partecipazione in un concetto, diciamo, di rappresentatività che sostanzia fondamentalmente l'indole, l'essenza di un partito che assume essere democratico. Il discorso del ripartire dai territori è sempre in sintesi, ritengo, involga, e col segretario ne abbiamo parlato già in qualche occasione, seppure in maniera succinta, ritengo, involga anche una conoscenza di stampo europeistico per i noti eventi che purtroppo stanno, come dire, angustiando l'Italia, la situazione migranti, tanto per fare un esempio, io quello che intendo sottolineare è che secondo me le forze politiche sia di maggioranza che di opposizione dovrebbero avere come baluardo del loro agire il cercare di recuperare dignità all'Italia all'interno del circolo europeistico, che significa recuperare dignità, creare una sorta di Europa dei popoli, giusto per andare a ritroso nel tempo, non è mai anacronistico l'esempio dello straordinario statista Aldomoro che già 40 anni fa, ma è ancora prima, diciamo così, propugnava questa idea di cooperazione tra i popoli secondo uno scopo mutualistico, in modo tale da favorire, sviluppare e promuovere i rapporti multilaterali e creare una Europa che abbia anzitutto come base, come epicentro, la posizione strategica dell'Italia all'interno del Mediterraneo, che non può essere sicuramente sottaciuta né tantomeno essere, come dire, svilita, svilita, va bene, per i noti eventi che purtroppo, ripeto, stanno travagliando gli ultimi tempi. Perfetto, partendo proprio da questo presupposto, da ciò che ci ha detto il nostro Avvocato, e scorrendo anche le pagine di questo anno di PD dal sito, vediamo pure, è contestuale anche il fatto della Medmar quando già voi dicevate alcune cose, io voglio tornare un attimo sulla visione europea e un po' più italiana del partito, tu ultimamente hai partecipato a due, a una manifestazione, quella, diciamo, non a favore del governo, ma ne è a favore di qualche cosa, era una manifestazione forte del PD per segnare una distanza da quello che stanno facendo i Cinque Stelle e la Lega a Roma, quindi che cosa è stata questa qualche tempo fa? E poi quella più ultima, quella della tua partecipazione insieme a qualche altra persona del direttivo procidano alla Leopoldo di Matteo Renzi, che quindi anche ti inquadra nel filone renziano del partito, quindi definiamo anche questa cosa qua, Carlo Remontro. Allora, partendo un attimo dalla visione europea, mi viene in mente l'immagine che abbiamo visto un po' tutti negli ultimi giorni di Londra, che era piena di persone che hanno richiesto un ritorno a un referendum per rientrare nell'Unione Europea, quindi il senso di appartenenza all'Unione Europea, è ancora sentito, soprattutto in un paese che ha Brexit, diciamo così, che è che sta vivendo in questo momento la Brexit, quindi deve essere motivo di partecipazione ancora più forte per dire noi siamo cittadini europei, qualcuno ci vuole portare fuori, ma dobbiamo combattere questa, anche perché se pensiamo che tanti progetti, tante possibilità ci vengano date dall'Europa a livello di finanziamenti, di aiuti, quindi uscire dall'Unione Europea può diventare veramente... se lo può diventare per la Gran Bretagna, per l'Inghilterra, figuriamoci per l'Italia figuriamoci per noi e di questo se ne è parlato anche a Roma, giusto, nella manifestazione? sì, perché molti si sono sentiti che sono intervenuti sul fatto, noi siamo europei, noi siamo cittadini dell'Europa, molti giovani che sono intervenuti, ricordo questa bella espressione io mi sento europeo, prima che sono italiano, è importante questo senso di appartenenza queste radici europee sono molto più radicate di quello che si pensa e quindi come partito vanno ancora sostenute se pensiamo che il Partito Democratico nel Parlamento Europeo è la forza più rappresentativa in questo momento, dopo le ultime elezioni europee andando però a quello che ha le ultime domande, quindi la partecipazione prima a Roma e la Leopold l'evento di Roma è stato forse il momento centrale dell'azione del segretario Martina che si è dimesso proprio due giorni fa ed è stato un momento importante perché ha un po' ricompattato il partito, ma anche tante anime del partito che hanno richiesto unità, hanno richiesto la fine di tante lotte interne che hanno devastato un po' il partito se noi pensiamo a tutte queste lotte interne, a queste conte che si fanno tra chi vince, ormai non c'è più un senso, una visione unica, abbiamo un segretario, gli dobbiamo tagliare le gambe, non va bene dobbiamo, anzi dobbiamo essere più forti, lo dobbiamo aiutare questa sensazione è venuta fuori in maniera più evidente la Leopold è venuta fuori perché comunque cosa è stata la Leopold, cioè che cosa porta un giovane come te perché molte volte sul territorio e anche molte volte con l'armoglato noi discutiamo ma anche con tante altre persone viene fuori questo fatto che i ragazzi giovani sono un po' disincentivati la politica non ne vogliono sapere, tutto destro, sinistro, centro, per sotto, per sopra stiamo tutti uguali, invece vedere un giovane come te, un giovane brillante bisogna dirlo che poi si è messo in discussione, si è assunto la carica di coordinatore di un partito che oggi sembra quasi che non sia nemmeno più all'1% cioè invece è tutto un partito che sta, comunque resta forse l'unico vero partito italiano e l'hai preso pure in un momento difficile, quindi è quasi un fuggifuggi dal PD anche per quella forza perdente alle elezioni e tutto quindi che cosa si respirava all'Eleopoldo, cosa ti sei portato di quei giorni e che hai fatto tuo in questa bella esperienza, era la prima volta che hai partecipato, era la prima all'Eleopoldo la prima all'Eleopoldo, quindi quale esperienza porti sul territorio e che cosa si può cominciare a fare sul territorio anche partendo dalle esperienze che hai raccolto all'interno dell'Eleopoldo allora con me c'erano anche Sebastiano Coutrera e Mimmo Coppola devo dire che c'erano tanti ragazzi, tanti giovani e pensare che la prima sera è stata animata proprio dagli under 30 con dei tavoli tematici in cui hanno partecipato c'era tantissima gente, hanno contato circa 35.000 persone durante tutto il weekend i tavoli tematici sono stati fondamentali per approfondire tante tematiche il commercio internazionale, la lotta alla violenza sulle donne insomma i temi erano i più vari e il fatto stesso che ci fossero tanti giovani ad alimentare i tavoli tematici deve essere una speranza per il partito perché alimentare questa voglia dei giovani di potersi di potersi sentire rappresentati dalla politica quindi evitare lo scollamento che c'è stato e riportare un po' anche di nuove idee, di nuove proposte a quella che è l'azione politica del partito prima di ripassare la parola all'avvocato diciamo che ti senti renziano, nel senso che tu sei giovane quindi molti anime del vecchio PD, DS, PC e tutto non li conosci se non da studi tuoi quindi possiamo dire che il tuo filone, il tuo in ipotetico congresso e tutto sarai comunque filorenziano sicuramente ma non tanto renziano come persona ma come idea diciamo riformista come idea di europeista di un partito riformista europeista di partito quindi quella diciamo deve essere l'idea di inizio avvocato questo PD a livello nazionale è sempre un partito che è sempre come diceva il buon segretario è sempre completamente sfilacciato agli occhi degli altri sembra molto litigioso e tutto come può un partito forse l'unico strutturato in Italia che è presente sul territorio entrare nella politica procidaria e noi diciamo che la nostra amministrazione seppur da una connotazione civica la procida che vorrei ultimamente un po' scompigliata le tre fuoriuscite però è forse l'anima della massima espressione del sindaco penso che sia del PD come può questo partito come potrete fare voi come direttivo interagire con l'amministrazione locale in quest'ultimo anno e mezzo che manca le proposte che da un anno sono state fatte quelle che vengono fatte dove agire e come agire allora benissimo in parte la domanda che mi hai rivolto è stata già risposta dal nostro segretario seppure in un discorso più ampio che io risottolineerei ragionando appunto in termini europeistici i criteri da prendere in considerazione sono sempre gli stessi trasparenza, partecipazione io penso che siano come dire dei paletti inelubbili ed assorbenti di ogni discorso che si imperdi diciamo sulla partecipazione democratica e quindi su di un indole progressista che caratterizza la forza aggregante appunto del partito democratico o il fatto che ci siano o ci siano state ci potrebbero ancora essere diciamo così delle diversità di vedute di anni diverse all'interno di una stessa di una stessa diciamo colorazione partitica non significa che ci siano delle contrapposizioni io ritengo sempre che secondo un concetto di democrazia integrale di democrazia compiuta e secondo la logica del confronto sottesa diciamo proprio a questa indole particolare di un partito che assume essere democratico io penso che ogni scoglio ogni ostacolo possa essere se non proprio superato completamente ma quantomeno attenuato secondo un discorso appunto di continua logica fatta di trasparenza e di partecipazione rendendo edotta diciamo così la comunità degli obiettivi che si prefigge sia a livello locale sia a livello sovralocale ora la conoscenza è l'elemento imprescindibile che consente io ritengo soprattutto nei piccoli centri dove la visibilità è maggiore che consenta diciamo di poter appunto ripartire dai territori cioè restituendo fiducia credibilità verso le istituzioni non solo ma anche verso appunto un partito politico che assume essere democratico quello che diceva il segretario prima è particolarmente illuminante perché portare a conoscenza della gente effettivamente la situazione non solo locale quindi come dire la piattaforma della procida che vorrei che sorreggeva e che sorregge tuttora seppure con qualche diversità di veduta notoria peraltro diciamo così l'azione del governo comunale già è un indice importante per portare a conoscenza appunto della gente che poi la continuità esiste fra di noi anche se c'è stata diciamo qualche divergenza qualche presa di posizione che è fisiologico ritengo in una consigliatura laddove vogliamo spostare il discorso da un profilo prettamente amministrativo per cui e venendo al dunque fondamentalmente della tua domanda io insisto con il ripartire dai territori con l'entusiasmo tipo che sta manifestando il nostro ormai da un anno il nostro segretario coinvolgendo soprattutto i giovani per evitare scollature e disinteresse nei confronti della vita della pubblica amministrazione alla fine i giovani e tu sai quanto sono sensibili diciamo di fronte al discorso giovanile saranno la nuova classe dirigente ed avere un segretario diciamo giovane con l'impegno che profonde quotidianamente e con l'entusiasmo soprattutto che coinvolge è sicuramente un indice importante sono briciole significative anche dell'ordinario ma portare a conoscenza dalla gente soprattutto ai giovani l'importanza di come funziona una macchina burocratica anche da un profilo tecnico e infatti io ritengo che un partito debba sia strutturalmente che funzionalmente articolare la propria azione a 360 gradi e quindi il coinvolgere la comunità significa ripartendo dai territori significa soprattutto rendere indotta la comunità medesima esattamente anche di come funziona la macchina burocratica degli obiettivi degli strumenti e quindi dando senso dando compimento a ciò che è democrazia integrale secondo la logica sempre del confronto e non dello scontro perfetto segretario da qua alla fine dell'anno manca poco avete iniziative sul territorio una domanda capire qual è stato in questo anno di tuo mandato interazione con l'amministrazione segretario la persona che ti precedeva nel tuo incarico è l'attuale vice sindaco avete avuto rapporti il sindaco con ogni tanto i rappresentanti del partito che è mai sentito riesce a sentire quali sono gli umori della base tra virgolette su alcune problematiche da un anno a questa parte ultimamente il traffico altre cose leggevo tassa di sbarco anche su molte cose che tu sei intervenuto i rapporti con l'amministrazione e poi la seconda parte della domanda siamo alla fine dell'anno quindi che cosa vedi in cantiere per questi altri due mesi dell'anno se c'è qualcosa di particolare a parte la tua presenza sia la Leopolda che è a Roma in questa manifestazione come coordinatore e poi anche perché ci avviciniamo a quelle che sono le prossime europee in cui il PD dovrà mantenere lo storico risultato del 40% vediamo dove arriva e quindi si inizia una nuova campagna elettorale che è il preludio di quelle che poi sarà la vera campagna elettorale sul territorio da qual 2020 e secondo me ne parleremo avremo modo di parlare di quella là a parte l'amministrazione sono buone anche perché il sindaco come dicevi fa parte dell'assemblea nazionale quindi la massima insomma espressione rappresentativa del partito ma anche diciamo con gli assessori e i consiglieri con i quali insomma cerchiamo di incontrarci spesso con il circolo proprio per poterci confrontare e capire quelle che possono essere le azioni del territorio capire effettivamente l'amministrazione come vuole portare avanti un progetto se possiamo dare un'idea quindi ci deve essere un rapporto osmodico insomma tra le due parti quindi non non di subalternità questo è chiaro deve essere la base insomma i progetti che ci porteranno a salutare questo 2018 c'è qualcosa in caldino o quella che poi saranno preludio per le europee del 2018 sicuramente si proseguirà con il tesseramento che si è avviato da luglio insomma e quindi proseguirà fino al 31 dicembre continueremo sempre ad incontrarci in modo tale da poter portare un confronto tra di noi che è sempre importante potremo sicuramente qualche iniziativa sul territorio come incontro della cittadinanza sicuramente lo faremo prima della fine dell'anno e ora dobbiamo prepararci per quello che sarà poi l'appuntamento del 2019 avvocato io penso che noi abbiamo un quadro abbastanza esaustivo di quelle che sono quelle che è stato fatto in questo anno ma pure prima perché comunque vada il PD approcita si può essere di parte o non di parte è tutto è sempre rappresentato da chi lo gestivo o meno è sempre rappresentato da sempre diciamo così è sempre rappresentato un baluardo di partito di democrazia di rappresentatività è stata rappresentata una buona struttura io ho qualche anno un po' più direi mondi forse meno dell'appuntamento ricordo le varie sedi del pc dei ds e tutto niente noi come sempre chiudiamo quasi siamo oltre i nostri siamo oltre i 22 minuti quindi così verso i nostri tempi così chiudiamo sempre con uno sguardo oltre la finestra la chiamiamo così e purtroppo oggi quello che ci viene fuori è condono è questo governo che sta creando solamente grandi grandi problemi non c'è giorno che passi che lo spread non salga non c'è giorno che salga che qualche esponente più o meno importante dell'economia dica che la manovra non è tutto da rifare su questa cosa qua la chiusura a te e poi la chiusura al nostro coordinatore sinteticamente io ribadisco i concetti della conoscenza quindi della trasparenza e della partecipazione insomma della gente io mi auspilo sempre in maniera più pregnante diciamo così che vengono chiariti come giustamente parlava il segretario anche nei piccoli centri come Proci dei concetti di spread che non siano intanto per fare un esempio qualcosa di astruso qualcosa che porti diffidenza alla gente per tutto ciò che si sente appunto in giro io noto che la gente è disorientata quasi frastornata perché sente dire da una parte una cosa dall'altra parte un'altra cosa al di là delle strumentalizzazioni quindi portare a conoscenza della gente anche tecnicamente il significato di concetti di situazioni normative economiche e giuridiche al contempo quali sostanziano ad esempio lo spread io ritengo che sia uno di quegli elementi di quelle componenti fondamentali soprattutto del partito a cui ci sentiamo di appartenere anzitutto in quanto ragioniamo in termini di democraticità e come mi insegna il segretario la democraticità non può prescindere dal coinvolgimento a 360 gradi della comunità a cui si riferisce a cui riferisce la propria azione di conoscenza e di trasmissione dei propri principi dei propri criteri ispiratori e allora giusto per concludere io faccio un esempio praticizzando il discorso prima parlava il segretario dell'esempio negativo della Brexit a proposito diciamo della Gran Bretagna diffondere divulgare i pesche diciamo che creano questo questa disarmonia questa disaffezione alla Brexit sopravvenuta addirittura che farebbero propendere per una ricerca di un reinserimento diciamo nell'Europa ritengo sia uno di quegli elementi di quelle componenti da trasmettere a livello informativo alla gente proprio per chiarirci definitivamente le idee siamo in Europa ci dobbiamo rimanere pur chiaramente rinforzando la posizione dell'Italia all'interno del circolo europeistico con pari dignità fra tutti gli stati membri io prima parlavo di cooperazione parlavo di scopo mutualistico diciamo così fra i popoli membri fra gli stati membri diciamo dell'Europa proprio per scardinare quel muro di diffidenza determinato dal disorientamento informativo a cui è sottoposto dalla gente e ritengo che la nostra azione debba impermiarsi proprio su questa continua opera chiarificatrice anche tecnica ma soprattutto da un profilo giuridico ed economico in modo tale da convincere obiettivamente le persone stesse che siamo effettivamente cittadini europei in quanto tali privilegiamo lo sviluppo la promozione dei rapporti multilaterali secondo la pari dignità diciamo di tutti coloro che si trovano ad operare appunto nel circolo europeistico perfetto grazie avvocato Lubrani chiusura al nostro segretario segretario un augurio noi speriamo di vederci entro la fine dell'anno noi tra ente apparati ente comunità sono anni che noi portiamo avanti questo per un piccolo periodo poi problemi personali contingibili che noi non ci siamo beccati con l'avvocato Lubrani sono anni che portiamo avanti questa rubrica e da tempo l'abbiamo ripresa con grande soddisfazione di entrambi grande soddisfazione delle persone che vedono e che seguono ma perché chiedo scusa se interrompo fra ente apparato ed ente comunità risiede il senso secondo me di ciò che è democrazia integrale cioè il raccordo continuo fra la comunità e l'apparato tanto è vero che chi studia chi ha studiato chi studia diritto pubblico proprio come dire la base fondamentale è lo stato apparato lo stato comunità tradotto in termini europeistici facendo un richiamo a ciò che ci siamo detti in questo incontro è chiaro che l'Europa viene ad essere una sorta di super stato che secondo un'ottica democratica deve garantire la rappresentatività l'uguaglianza e la giustizia estesa ai vari livelli di tutte le comunità che vi appartengono perfetto quindi dicevo proprio questo e l'avvocato inizio io una cosa e lui la finisce inizio e lui la finisce con io interagiamo con la grande quindi noi sperando di poterti avere qualche altra volta sicuramente in redazione noi possiamo l'avvocato poi è molto presente su questa cosa ed è molto attento a far sì che delle dinamiche di formazione più che di informazione possono trovare base in questa sede possono trovare base con noi perché ci chiediamo molto in quello che facciamo quindi l'augurio per te e per i tuoi e per il partito che tu rappresenti e per gli iscritti e quindi a qualcuno ad avvicinarsi ancora di più al partito i giovani quindi un invito così e la professa che ci vediamo quando prima sicuramente ci dovremo rivedere quindi io vi ringrazio per l'invito e accetto già il prossimo sicuramente i momenti di approfondimento sono sempre fondamentali fondamentali per la comunità perché permettono di capire che cosa sta succedendo a livello locale a livello a livello sovralocale oggi si parla tanto di condono di spread quindi momenti di approfondimento che sono fondamentali perché anche per fare per fare non solo una giusta informazione ma anche una giusta politica perché poi c'è tanto scontro politico però la politica deve essere anche quel momento di compromesso tra le parti di confronto quindi è importante diciamo cercare di anche di abbassare un po' i toni abbassare i toni perché poi sull'isola ottimamente siamo anche assistenti a questi toni sempre più accesi basta veramente proprio niente basta la corretta informazione basta la corretta informazione quindi in questa auspice che noi cerchiamo di essere e di farla questa corretta informazione con tutti i nostri grandi limiti auguriamo una buona festa di ogni santo sia all'avvocato Lubratti che al nostro coordinatore Scotto Di Covello al nostro amico Lando e diamo appuntamento ai nostri video spettatori alla prossima puntata grazie e buona giornata buona giornata buona giornata